Anchen Dungeon VR su PlayStation VR 2 Allora, ma ce l'abbiamo aperta la chat vocale Discord? Sì? La chat vocale Discord è aperta, quindi tutti gli amici di Mr. Labbro del canale Twitch sanno come fare... Usiamo il pass-through? No, non usiamo il pass-through che sparisce tutto. Gestore streaming. Chat. Eccoci. Bene, questo l'ho scritto io. Ecco, si comincia. Porco cacchio. Vediamo gestore streaming. E' chi poteva essere, se non il nostro doominator. O comunque c'è il canale chat Discord aperto, eh? Quindi... Ovviamente... I danni si possono fare anche live. Allora, figata! Facciamoci una run veloce! Vai, 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 vai. Madonna, troppo veloce. Via, 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 via. Cosa c'è da dirci oggi? Piccoli fatti conosciuti. E' stato riscoperto... Ah, è stato lui a scoprire questo ingresso. C'è voluto solo perseveranza, ricerca e perdersi molto in un hike, cioè in un passaggio. Un hike, no, non so che cazzo vuol dire. Certo. Allora, achievement. Bene, stiamo crescendo. Unlocked tips mask. Ah, ma questa... Che cazzo è? La maschera del ladro. Non lo mi caso. Va bene. Allora, qua... Voleva... Abbiamo solamente 19 punti. Noi, per sbloccare questo, ce ne servono 40. Che alcune stanze contengono statuette che ci permettono di fare... effettuare degli scambi. Ma a noi ci piaceva... Questo l'abbiamo preso. Anche queste... 50 ce ne voglio. Il cibo ha una possibilità di migliorarsi nel tentativo successivo. Non sappiamo bene. I boss, quando li sconfiggiamo, ci regalano una patata. Ma questa non l'ho ben capita. Cioè, 40 punti per sta roba. Che poi in realtà una patata sarebbe un cuore... mezzo cuore. Una mela è un cuore intero. Your chance of winning at the merchant slot machine in crazy. Ecco, questo ci può far... questo dobbiamo prendere 30. Ci può far aumentare la possibilità di vincere alla slot machine del mercante. Quindi, adesso andiamo dentro. Allora, mio nonno... Anzi... Il nonno del mio nonno... ha completato il coltello. E fu uno shock. Ghevi... Quando glielo tirai. Vabbè, ma questo l'abbiamo già letto. Cioè, oramai non dicono più cose nuove. Siamo entrati cinque volte e non ne siamo ancora usciti. Usiamo sempre la spada. E chissà quando sbloccheremo... La balestra, credo che sia. E il pugnale. Entriamo. Giazza. Dai, via. Una mano veloce. Che potrebbe essere frainteso. Perché tu entri sempre esattamente con precisione chirurgica? No, no, no! Aiuto! Ora dove l'ho tirato? Ma che figata! L'ho usato come una... Il tennis! Cioè... Mio Dio! Te lo stavi chiedendo anche tu? Cioè... Che cazzo! Però... Allora... Tu, Duma, lo sai che... Inviar non si vede chi scrive in chat. Quindi potrebbe essere... Anche... Sei tu? Ma... Vabbè, se poi è Snow dimmelo se c'è qualcuno. Perché non sta cosa... Guarda che questo si divide in due. Comunque te non puoi immaginare quanto è bello lanciare il pugnale. È uno dei pochissimi giochi... In VR. Mamma mia! Ma è fighissimo per... Io ti sento benissimo, sì. Poi non so se rimane in live perché a volte... Boh... Ciocca... No, no, va a fare niente. Però, vabbè. E quello che volevo dire è che l'hai visto in... Su YouTube sto gioco qua, eh? Il... 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 No. Allora, Minecraft c'entra solo per la grafica schematica. Ma poi non c'entra niente. Minecraft praticamente è un gioco dove tu... Nel mondo... Ok, si sente? La mia voce, sì. Non senti la tua. Minecraft... Ok, monete. È un gioco dove tu c'è un mondo e ti costruisci una casa, di notte devi difenderti dai mostri... Che è bello per quello. Però tutto è cubico, no? Vabbè, cubetti. Invece qua è un dungeon, cioè un gioco di ruolo di quelli... Dungeon che vai dentro con la spada, eh? Però viene... La mappa, vedi, si crea ogni volta diversa. Cioè ogni run è diversa e non c'è un vero proprio scopo. Tu devi uscire e superare questi cinque livelli. Poi non so se ce ne sono altri. Io sono arrivato solo al terzo. Il primo livello è questo qua verde, poi c'è quello rosso, eh? Poi c'è la libreria infestata, il quarto non lo so. La cosa figa è che tu prendi monete... Delle chiavi. Poi puoi fare anche delle run veloci, no? Ecco, vedi? Ma vaffanculo! No, 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 non c'entra un cazzo. Questo è proprio... Vai giù! Guarda, l'ho buttato giù! Ahahahah! Affanculo! Oh! Comunque... No! Madonna! Vai giù! Ahahah! Bello! Quello ci va giù? Sì! Ahahahah! Fanculo! Ah, scusa, ti condivido... Ti condivido lo schermo, così lo vedi in tempo reale. Da Twitch? Eh, vabbè, ma mi vedi in ritardo. Ah, io posso condividere lo schermo, che cazzo me ne frega. Ma... Ma te pare. Allora, scusa, bisogna fare il party. Sì, devo fare il party. Ma te pago. Ma te pago perché? Come cazzo si fa? Aspetta... No, devo creare un party prima, giusto? Eh... Come... Sì, devo fare prima... No, aspetta, chat vocale Discord non posso condividerlo qua. Condividi schermo non c'è. E quindi... Ah, vabbè, lascio Discord aperto e tu passi su... Su... Come cazzo si chiama? Su... Il party PlayStation. Allora, aspetta, eh. Mmm... Però... Vabbè, va bene, sì. Eh, appunto, sì, lo stavo creando il party. Scusa, che... Esci da Discord, sì. Tanto credo che non me le faccia tenere due aperti, no? Quindi Discord lo devo chiudere. Allora facciamo così. Chiudo Discord. Ok, dall'altra parte. Addio. Ok. A questo punto dobbiamo creare un party. Avvia party. Un party riservata. Aggiungi giocatori. In attesa che altri entrano. Avvia condivisione scher... Ah, cosa voleva dire? Ah, è un casino. Non ce la posso fare in paralleli. Aspetta, aspetta, non è che ho... Aspetta, fammi fare... Interrompi condivisione scherma. Ah, l'avevo già fatto. Scusa, non me ne ero neanche accorto. Allora fammi vedere un attimo il microfono se è questo. Microfono PlayStation VR 2. Ah, ecco, appunto. Perché quello è sempre uguale di solito. È appunto. No, no, è sempre rimasto così tutto. Vabbè. Comunque... Allora, quindi è un dungeon che si genera automaticamente ogni volta una mappa diversa e tu devi cercare di arrivare in fondo. Tutto qua. È bellissimo. Quindi... Ma il bello è che c'è la fisica del gioco, per quanto sia schematica, è bello. Perché guarda che puoi tagliare proprio lì tutto. A parte che sento il volume di gioco altissimo. Cazzo, come... Dipende da me... Ah sì, per forza è... Eh no, ma sei tu... E quindi? Devo fare... Anche in dungeon... Chat vocale. E io cosa devo fare? Su... Opzioni. Io sono su chat vocale. Eh, dimmi tu. Volume di gioco, credo. Ma dov'è volume di gioco? Nella chat? Sulle opzioni. No, sulle opzioni del gioco. Ah... Eh, però poi già io lo sento. Aspetta eh. Vediamo un po' se lo posso fare. Aspetta. Io lo sento superforte. Ah, aspetta. Perché tu puoi bilanciare le due cose, ti ricordi? Aspetta, sì, sì. Ma guarda che perla che so. Vai, vai, è tutto a posto. Ah, ecco, ok, perfetto. Mannaggia a me. Allora, adesso tu mi dici, avanti, destra, colpisci, fai... Io? Sì, praticamente sei tu questo. Oh, che bello. Tipo, vai, apri la porta, fai quello che cazzo vuoi. Ok, vai, avanti, avanti. Poi mi devi dire, guarda la mappa eh. Guarda la mappa, benissimo. Vedi, noi siamo questi, vedi la freccetta. Scusa, lo vedi in questo occhio o in questo? In questo a sinistra. Non questo qua di adesso no? No, fuori dallo schermo. No, sul sinistro. Mhm. No, devo correggerla sta cosa. Avanti, apri la porta. Guarda, rompo una cassa solo perché... Questi vanno... Comunque questi vanno rotti tutti eh, li faccio io perché... Ho visto, ma è divertentissimo. Ah, c'è subito il negoziante, guarda. Ah no, non è il negoziante. Era un moscerino. No, era sì, un pipistrello del cazzo. Allora, abbiamo... Un potenziamento. Mhm. Bello! Ho trovato già un potenziamento che ho scelto, dicendo che sugli altari che trovo nel livello mi presenta due potenziamenti tra cui posso scegliere. Allora, questo qua lo conosco già. Era il dente d'oro, dice incrementa sensibilmente i danni da mischia, cioè quando colpisci da vicino. Questo non l'avevo mai trovato, quindi ci faccio uno screenshot e dice... Eh... Lacrime amare. Quando la sal... Ma che cazzo deve ruotare sto cosa? Guarda a te, scema. Quando la salute è bassa, il danno delle armi incrementa significativamente. Bello! Cioè quando noi abbiamo la salute bassa e siamo in pericolo, il danno dell'arma aumenta. Mhm. Dai, questo? Mhm. Questo qua incrementa leggermente il danni da mischia delle spade. Noi abbiamo per adesso la spada che è a 6, parte da 5 di solito. Ok. E basta. Poi c'è il danno critico... No, secondo me... Dai. Prendi quell'altro. Dai sì, questo dai. Sì. Ok, adesso ce l'abbiamo qua nei potenziamenti. Lacrime amare. Comunque è bellissima la grafica. No, ma la grafica è bella perché... Cioè... Tu puoi anche rompere la roba... Con i pugni. Mi piace da mate. Poi... Io non ho mai trovato un gioco che ha... Stavo bevendo. Sì, fai pure. Guarda che figata è il coltello. Se tu lo lanci laggiù... Io schiaccio il tasto per richiamarlo... Ma prima di... Ma prima di prenderlo con la mano... Levo il grilletto... E lui non va più in mano. Vola dall'altra parte. Cioè, vedi? Sta a vedere. Oh! Bellissimo. Eh! Vabbè. Che spettacolo. A me già sarebbe venuto il mal di testa. No, no. A vederlo... Io devo cercare di muovermi poco. Perché inviare... Io vedo tutto fermo. Come se guardassi la tua stanza. Invece tu... Vedi tutto muoversi perché... Sì. Vabbè, cercherò di andare... Far rotazioni veloce. In live rispetto allo share play è meglio. Ah sì? Come mai? Come qualità video? No, no, no. Dico proprio quando ti muovi. Ah! Forse fa vedere una porzione più ampia di campo visivo? Probabile. Eh, può anche essere. Magari lo share play manda... Ok, dai. Lo vedi che... Uso questa puntina del dito qua. Lo vedi che qui dove indica la punta c'è... Non c'è il muro nero. Sì. Vuol dire che qua ci sarà... Esatto, c'è una porta. E infatti c'è anche qua davanti a noi. Sì. Quindi bisogna stare attenti tipo a tornare indietro e non perdersi delle zone. Sì. Quindi... Dove andiamo? Torniamo indietro. Ah! Cazzo! Ma grava! Giusto! Anche le luci, eh, le puoi far fuori. Guarda che belle le ombre, ma è una roba bellissima. Ho visto sul video che gli lanciavo il coltello, ma hai una mira della Madonna. Ma la mira è incredibile, cioè... Cioè, è pazzesco. Se tu mi dici tiralo nel bianco lì, tac, così. Cioè, non c'è un gioco. Tipo Pavlov per lanciare una bomba a mano, sono morto due volte. Cioè, questo qua fai zack e lo lanci lì. Ce la fai a prendere quella torcia lì a destra? Da lì? Ecco. Quella lì? Sì. Sì, però uso la sinistra o la destra? Come preferisci tu? Secondo me la destra. Visto che sia destra... Io son destra, sì. Però con la sinistra non è... Cioè, è difficile perché è difficile lanciare... Però con la sinistra... Oh! No! Guarda dove è finito... Daffanculo! Aia! Due! Minchia, ho preso due frecce! Cazzo, questi su dove escono le frecce? Hanno preso uno e due. E ci siamo fatti mezzo cuore. Puttana! Non a te! Che cazzo c'entra? Guarda dove l'ho tirato da laggiù! Ho cascato il telefono. Ho ancora! No, il cascatelefono. Il cascatelefono. Il cascatelefono. Comunque, guarda dove l'ho lanciato, eh. Ho visto. Oh! Ah! La figata è che se tu, guarda, lanci il coso, il pugnale, poi ti metti dietro. Anche quando lo richiami, taglia le robe. Guarda che taglia l'erba. Bellissimo. Quindi, io ho sconfitto un nemico di pietra. Bellissimo! Perché gli tiravo il pugnale e non mi dava meno un punto, meno dieci, meno cinque, niente. Poi l'ho beccato sulla mano e me l'ha levato un punto. Allora ho capito che dovevo colpirlo in certi punti. Sai dove bisognava colpirlo? Alla schiena. Eh. E allora io mi son messo dietro una staccionata e gli continuava a tirare dietro il coso e poi FUM! Un punto! E poi quando si alzava, FUM! Un punto! Sono andato, credo, dieci minuti. Ecco, mo' si parte. Affanculo. Comunque, guarda che bello che c'è. Vedi, se tu passi davanti qua non fa niente. Ma se ci passi tu... Ok. Ho paura, eh. Uuuh! Ahahah! Questo l'avevo visto nel video, ma l'altro... Il video che ho pubblicato mi è successo a me senza volerlo. Mica, ci sono rimasto di merda. Beh, comunque ci hanno già fottuto mezza vita. Allora. Ok, siamo qua. Ehm... Sì, siamo entrati, sì. Giro, giro. Esatto, entro dentro la porta. Oh! Fate intento. Ho capito che me lo stavi per dire. Comunque si può passare sotto, eh. Però bisogna... Ma sai che questo è più basso degli altri? Ma sono io che sono troppo alta, no? Allora, sali sopra le pietre. No, non si può salire in questo gioco. Non salti. Cioè, in certi punti puoi scavalcare, ma no. Allora fai la finta. Aspetta, aspetta, aspetta. Oh! Ma ho mancato! Vaffanculo! Mi è passato sulla spalla di qua. Minchia, devo stare più attento quando faccio sto giochetto. Ah, questi sono... Oh! Hai visto che ha girato sta fare viola? Sì, è venuto. E' venuta una freccia che quasi quasi mi prende mentre la arretravo. Madonna, che casino! Ok, ok. Siamo dentro, eh. Laggiù c'è... Questi ti lanciano il veleno. Ok, fatto. Ok, li distruggo tutto Lì ci abbiamo altre due cose tra cui scegliere, fico Ok Perché distruggi tutto? Perché ci sono le monete dentro E poi mi sta sul cazzo Mi piace rompere tutto Te non sai che soddisfazione dà Guarda che bello sti cosi qua Ma è pazzesco La fisica di questo Pensa che oltretutto sto gioco va a 120 frame al secondo Senza retroproiezione Quindi è fluidissimo quando lo guardi dentro C'è una roba bellissima Cioè da fuori tu vedi in realtà Ho detto qualcosa Sotto le macerie a destra Dietro a sinistra Era un'impressione mia Ho visto una cosa durata Può darsi che c'era un pezzettino di qualcosa Ah bisogna stare attenti Perché nei muri Se vedi le texture dei muri un po' diverse Con del nero Ci sono dei passaggi segreti Però Nei muri Nei soffitti E nei pavimenti A volte ci sono dei passaggi Però sono abbastanza evidenti Ok Allora Altri due potenziamenti Strano che è al primo livello Allora questo è La lodestone Non so La pietra delle lodi Che cazzo è? Perduta Lost lodestone Sia il Mellì Cioè il Il combattimento da mischia Che Quelli da lontano Quindi il No L'hai preso Forca puttana Volevo fare questo E l'ho preso Non volevo Volevo sapere che cazzo era l'altro Fanculo Cosa abbiamo preso? Allora Sia il combattimento da vicino Che quello da lontano Incrementano leggermente Dopo aver completato un'area Fanculo Quindi succederà nel Nel livello due Ma porca puttana Ma no perché c'era No La lampada Comunque Prima o poi ci aspettiamo Un gnao Un gnao Che arriva All'improvviso Ah lì c'è un Sai che bisognerebbe avere? Una chiave Però io ho capito che Vedi che a volte li rompi Minchia ma quanti cazzo Di potenziamento abbiamo No sono tre chiavi Sono tre chiavi queste qua Allora Sono tre Sono tre Allora Jail key Le chiavi della prigione Guadagna tre chiavi Quindi non ne abbiamo zero E adesso ce ne abbiamo tre Bellissimo Bene Bella lì Ah qua non c'è niente Quindi noi stiamo andando Ok Sai che tu mi devi guidare no? Ah si Eh sinistra Esatto Azzo Di qua non si torna indietro eh Allora è meglio andare Andare Esatto Esatto Quindi dobbiamo andare Lassù Ok quindi ce l'abbiamo Avanti A destra E avanti Vaffa Arroca puttana Sì Altro mezzo cuore Stupido è che stupido fa Aiuto Occhio Aiuto Orca puttana Ma è venuta l'idea Ma se tu tipo appoggi la spada Sul Sul buco E poi ci passi Bravissimo Appoggi la propria Eeeh 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 Duma eh Eeeh Cazzo Minchia una Ma quante cazzo ne spara di seguito Bella Duma E' vero E' vero E' vero Mica mi facciamo unire mal di schiena Sto merda Ah Vaffanculo Cazzo grande Sapevo che Ci avevi il colpo de genio E' colpo de genio Ma no Cazzo anche qua Anche qua si va giù Aspetta Qual è la scelta migliore Aspetta Apri la mappa Può darsi che Vedi che Continua a sinistra Può darsi che poi Dopo gira E si ricollega In qualche modo Al quadrato in basso Eh tu dici che poi da qua va giù Esatto Eh forse a livello A livello più basso Sì Però di qua Se saltiamo giù Ci facciamo un po' male Eccola Il miau Miau Mi è sembrato di sentire un miau Mi è sembrato di udire un miau Mi è sembrato di vedere un gatto Allora scusa Da quale andiamo? Lo sai che non lo so? Eh boh Boh Nooo Non saprei Allora io ti consiglio Di andare di là Dove non ti fai male A sto punto Ok andiamo Uh stavo per cadere Eh stai a vedere Adesso usiamo Snow La tattica di Doom E' questa Ah merda Ho paura Via Oh aspetta un altro Merda Ragazzi la live mi va a scatti Ho paura Non riesco a mettermi Vai Come ti va a scatti Nooo Ci vedi un po' scazzati allora Scattati Sono scazzati un po' Uffi no Ma stanno già guardando una partita I tuoi conquilini amici Allora scendiamo qua a Doom Beh si molto probabile Scusa ma Nelle impostazioni Io posso dire l'occhio destro Perché c'è l'occhio sinistro Ehm Fammi un attimo guardare Allora impostazioni Playstation VR Ehm Luminosità Blablabla Area di gioco Cancella Attacciamento Abilità Ehm Ma chi ha te Ehm Credo di sì Dimensioni schermo Assistenza E blocca La vista trasparente Sulla tv Impostazione Tempo L'avevo visto Assistenza Avanzamento Uscita video E blocca Modalità cinema Calibriazione Telecamera Assegna No No Vibrazione Eh Cacchio mi spiace Regolazione Distanza delle lenti Verifica come indossare Il visore Eh Regola Tracciamento Oculare Cancella Area di gioco Sensibilità Impostazione Altezza Pavimento No guarda Poi ci guardo un'altra volta Amici Comunque avevo letto Da qualche parte Che C'era scritto Che puoi scegliere Quale occhio Mandare in output Vabbè scenda allora Proviamo Rompi No No Vaffanculo Buonasera Paolo Paolo Mica paura Sei riaperto Ma qualcuno Qualcuno ha detto Buonasera Paolo Perché ti chiami Paolo Perché io non mi chiamo Paolo Ma come non conosci Paolo? No Manco io Bravo Ma come voi lo conoscete Ma come voi lo conoscete? Scusa Fammi vedere un attimo Chi cacchio che scrive Credo sia Snow Ah no Lo conoscete Certo Io lo conosco Ah ma no Ma chi è Snow Ma chi è Paolo? Ma come chi è Paolo? Dai Mi siete messi d'accordo? Non lo conoscete No Io non lo conosco Allora che famo? C'abbiamo Idda Edda 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 Ecco un'altra L'ho sentita Ah questo è lo scudo Non è il boss di dentro Quattro punti No il boss No c'è una porta più grossa per il boss Ah siamo dal mercante Aspetta aspetta Prima di spendere soldi dal mercante Ah bella la slot machine Gli tiri un pugno Spendi 25 monete È la possibilità di vincerne uno Ma Noi abbiamo solo 11 monete Dobbiamo andare in giro a trovare monete Prima E di tornare qua Un bonus E questo che è? Allora foto Vediamo un po' Questo qua è La barba del vicius Del vicius Come si traduce in inglese? Il coraggio No cos'è? Aspetta che mettiamo in moto Ma non è Perché non lo sai? Non lo dice anche che è così? Sì Io l'ho sempre detto da piccolo così Quando metto in moto Vabbè I proiettili Nel senso Le cose che lanci Quindi il coltello Continuano a provocare E non si può così Continuano a fare un danno continuo E quando sono piantati in un nemico Ma è bellissimo Quindi noi quando tiriamo questo Continua a fargli danno Non so quanto ma fin tanto che non si leva Paolo Ma chi è Paolo Ma ragazzi non l'ho capita quella di Paolo Chi è che l'ha detto Ma non credo ci sia nulla da capire È Paolo Allora Secondo me non ci abbiamo i soldi per sta roba Questa qua costa 68 È la bottiglia delle fulmine Ah wow Ah wow Ah wow Le cose di lancio incrementano lentamente in dimensione e in danno Ma si resettano dopo ogni colpo Non l'ho capito Io se fossi in te prenderei Paolo A sberle Allora Il marchio dell'infuriato del berserk Una volta caricato usalo temporaneamente per incrementare il danno critico Vabbè ma quanto cazzo costa sta qua 41 Questa 20 Niao Niao Che poi io lo sento Guadagna una protezione Niente Non ci abbiamo da comprare un cazzo Giochiamo alla slot Vai gioca alla slot Ce ne abbiamo 12 No neanche la slot possiamo Quanto cazzo costa sto livello Vaffanculo Ne abbiamo solo 12 Di solito costavano 5 Che pezzenti che siamo Continuiamo Sì Certo Sì Ok ok monete Monete Ah questo è lo scudo L'erbetta con lo scudo L'erbetta Ah guarda quante monete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 22 No Che cazzo è Paolo Ecco Lo vedi? Sì Questo è il muro Eccola là Cos'è? Una piccozza È una piccozza È una piccozza Minchia c'è anche del sangue dietro Attenzione C'è qualche trappola Insomma mi fa paura vedere quel sangue là dietro Guarda che belle l'ombre Sul muro del pugnale Io ce l'ho attaccato alla bottiglia Della salsa di soia E una sete No buona Cos'hai mangiato? Perché? Salsa di soia con la salsa di soia Io non vedo niente Salsa di soia al quadrato No Allora Stavo indicando che nel muro Quando vedi le pietre tutte col verde Il muschio Molto tipo Minecraft Ogni tanto c'è un po' di nero Un po' qualcosa che ti fa immaginare Che c'è un passaggio segreto Infatti l'abbiamo appena aperto No ma credo che lei disse Che non sta guardando la live Credo non lo so Eh sì ma secondo me lei ha detto Non guardando la live Quando io ti ricordi cosa ho detto Du ma guarda guarda Vedi? E lei non capiva Ma sì è Paolo Paolo è una parola Mi spiace No cazzarola Ma non puoi mettere qualità Non so 114 144p Proprio Riesco anche video Dai buono Allora queste Vedi che sono nere Queste armi Queste cose Vuol dire che finiscono sul polso E vanno ricaricate Non so Colpendo gli nemici Non so Non posso ti appreso Eh Cosa hai detto? No non posso Non posso ti appreso Solo 1060p Ah può fare solo 1060p Eh forse sono io che non faccio broadcast in bassa Dice il marchio del minatore Una volta caricata usala per produrre una linea di spine che danneggiano Ah bello Sì per terra Parte una riga di spine Bello Quindi abbiamo Le lacrime amare Che producono un incremento di danno Quando la nostra salute è bassa Eh Poi dice sia le cose da lancio Che di mischia Incrementano Dopo aver completato l'area Quindi nel prossimo Poi abbiamo preso tre chiavi Poi abbiamo che Ah i proiettili I proiettili I proiettili I proiettili Vuol dire le cose che lanci Fanno danno continuo Fintanto che non si staccano dal nemico E poi questa Sì Che si deve caricare Però non capisco C'è un tatuaggio Questo? No quale? Quello? Quello Sì Bello Carino Bello Andiamo Quindi qua direi che abbiamo Completato l'area Ah no Questi esplodono Ma che cazzo Hai visto anche così? Ma guarda io riesco Con la sinistra riesco ad affettare La La liana C'è una roba pazzesca Adesso ti chiamo Per venire a te E' il progetto Mamma mia Che soddisfazione Ma dove? Paolo è il boss Finale? Paolo T'ammazzo Eccolo 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 Lo usiamo questo? Vediamo se funziona Bello Hai visto che ha fatto una striscia di spike Paolo è intoccabile? Cazzo fa sto qua Pum Una botta nei coglioni Pum Sanguina Mi spiace Eh c'ha problemi Poveretto Una moneta Qui Cazzo c'è qua? Eh niente Ok Duma Siamo arrivati qua C'è solo un passaggio Quindi Spacchiamo tutto Ecco La porta del boss E' Paolo E' Paolo Siamo a casa di Paolo Sì ma Non abbiamo No l'abbiamo usata in modo stupido Ci abbiamo Ci abbiamo Due cuori C'è casa grande che ha Paolo Abbiamo 20 Hai visto che Lampadario? Sai che vi posso tirare Lampadario addosso Con il pugnale E farglielo cadere? Ma Paolo? A casa di Paolo Sì Fa vedere? Ho paura Scusa Noi 25 Monete non ce l'abbiamo Orbe E' sotto casca in testa Mica è anche stretta Sta stanza Porca troia Comunque Posso dirti una cosa Lo vedi che qua Non siamo andati A congiungerci E' vero Ce lo siamo persi E' però il gioco è così E' random Boh Ma Ti dà anche l'opportunità Di riandarci Oppure No 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 Non puoi Ma a volte i livelli li fai tutti Però a volte ci sono delle scale Per andare su Però qua evidentemente L'ha generato casualmente Il livello 1 Quello rosso è il boss Quello giallo è il negozio E quello blu Sono le cose segrete Ma ti giuro Sono curioso Le vedi sto Paolo Eh lo so Anch'io C'ho paura Adesso appena ci spostiamo Un po' arriva No no Ne potenziamenti Ah però Abbiamo Che la salute Aumenta E il coltello Glielo devo conficcare E lasciarglielo conficcato Per tutta la boss fight Eh si si Perché gli continua a far danni Ah ok Vedi Sì è una merda È una merda No Vaffanculo Ma guarda Vaffanculo Devo Devo sperare Che lui muoia Aiuto 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 Che situazione di merda Dai 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 Famici per la mano Famici per la mano Non c'è questo robosco Bravi bravissimo È morto No non è morto Sì è morto È morto No dai Vaffanculo Andate a fanculo tutti No no Arrivano No No sono morto No Bastardi Tutti i piccoli paoli Avevo I paolilli I paolilli Vaffanculo Avevamo già superato il livello No Abbiamo preso solo tre merda di punti Non potete capire che suoni splatter sento wow Esatto Sembra tu Sì lei in effetti sente un altro gioco Ma no 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 Sì no 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 Fermo Fine della run Maffanculo Mi dissocio Twitch Mi twitch Twicho Mì Mi twitch Sì Vedi adesso abbiamo preso tre punti Ehm adesso Da usare qua Sono morto e Eravamo a livello 1 Overgrown Gatehouse Poi c'era questo e questo E poi qua non ci sono mai arrivato Ok E poi qua quando ne hai abbastanza Io ho preso questo Che costava 80 Non so E ho scelto di avere come potenziamento permanente Che i piedistalli mi danno due scelte Era la cosa che ho preso per primo E poi c'è il cibo Che può migliorarsi Il boss che se lo sconfiggiamo Ci regala una patata Sì, io ricevo Potato after defeating boss enemies Mezzo cuore ti dà la patata Che cazzo me ne frega Ti giuro Qui poi puoi prendere gli altri Qua dice che il cibo migliora Però 50 ce ne servono Quale prendiamo? Poi ci abbiamo Ma no dai Cioè dopo un boss una patata Potrebbe essere la patata del boss Un po' strano Una bossa Your change Alla slot machine Possiamo avere più possibilità di vincere la slot machine Però 30 ce ne servono E l'altro invece Vedi ho preso già il primo In modo da poter individuare i muri segreti Dice Alcuni segreti possono essere trovati nei muri I soffitti e pavimenti Quello ce l'ho Il prossimo dice che Alcune stanze contengono delle statuette misteriose Che possono permettere di fare degli scambi Non so Degli scambi Non so Dice Scambiami questo potere con quello Però questo qua ce ne vogliono 40 Oro cocazius Miau per tu Madissimo La galla La galla Miau per anche te Snow Però hai sentito? Hai sentito Duma che ha detto? Cosa? Eh lo diceva Snow Se ha sentito Che ti stai ad ammalare Ah No fa male la gola Fa male la gola Non fa male la testa Non fa male tutto Non fa male tutto Non ho sentito e ha detto Eh No no Perché non ho detto niente Ma che dico? No no Eh ha detto che gli sta a venire la febbre Forse Ah e questi sono importanti Perché dobbiamo leggere Non so La satanatoli Il berserker Tutti e tre E poi forse vinciamo Qualche cazzo di armatura Il biologo Il giocatore d'azzardo Il cartografo Solo che Ah il dume Eh sì E qui sono gli achievement Va bene Dai andiamo con un'altra mano Veloce Vai Vai Rapida Non so leggere niente Questa è la sesta volta Che siamo entrati Eh Capito Ce l'hanno avuti tutti Qua a casa mia Ma te tocca Non me tocca Forse Però magari te la sfanghi Chissà Ricordati Vitamina C E vitamina D Andiamo Qui manco si vede Dove è la porta Vabbè io spacco tutto Poi vediamo Spacca tutto Spacco tutto Spacco Monete E siamo a sei Questa è la testa del teschio Oh merda Uh Ci ha tirato un sasso È il tirassassi Questo Questo ci segue Ah fa il cuore Madonna Oh colpito il sasso No In mezzo alle gambe In mezzo alle gambe Eh sì Guarda che se lo colpisci Da dietro Medi fa uno Sì Prendi la testa Allè è morto Ah merda il fiore Questo cazzo di fiore Ah c'è questo Ma sei andato S'è buttato giù Che coglione Wow di sinistro Però sono diventato bravo Eh detta così Lo so Ah qua c'è Eccolo qua Maledetto Non gli fai niente a questi Perché Eh perché c'ha lo scudo È la goccia di veleno Schifosa Vai vai che È da dietro Niente Bisogna andare giù Vabbè io scendo più in qua Vedi Sta merda di Va bene Io qua mi faccio Due o tre partitine Poi passerei a Pabge Una paggiata Volendo anche sì Bravo Volendo Affanculo te E tutti I tuoi Zomboidi Zomboidi No Mica Vaffanculo Te sai cosa ti meriti Di andare giù Sai che Vaffanculo Vaffanculo Tu no Come non puoi clippare Cosa vuol dire Certo che io C'ho tutti i permessi liberi Che cazzo vuol dire Non me lo fa fare Non me lo fa fare Oh Oh Sparagli Mador Bravo Un testa Ancora Occhio che cade di sotto Minchia Ah no Ok Minchia Questo è difficile Perché lanciargli il coltello E Ah ma qua C'è una Ah ma tu hai tre chiavi No zero Era nel livello precedente Eh Dooma Sei tu Esatto Esatto Ho colpito al piede Mi spiace L'ho preso Al piede Ridammi Bellissima la fisica del gioco Ancora ridammi il pugnale Bellissimo Sette tonnellate Sette y Sette y Come sette tonnellate De che parliamo Ma non lo so Ho sentito Sette tonnellate Sette tonnellate De che Oh l'ho preso Alla grande De che Sette tonnellate Di Ma non lo so Ma chi è che parla Snow Che ti succede Parla C'è Parla Cioè La lingua De brigitte Ah ok Ecco Mu' inizia La carrozzeria L'autocarrozzeria Le macchine Che non partono Sento dei rumori Questo Chi l'ha scritto Adesso voglio i nomi Non l'ha scritto Snow Non c'è scritto No io lo vado a leggere Chi c'è No io so che c'è Eccolo Questa l'apriamo No zero chiavi Ma vaffanculo Chi l'ha scritto Vaffanculo Voglio sapere Non ti piegare A questa lingua Del diavolo Ok qua bisogna salire Caccazzo E' l'ora del ferramenta No del Non del ferramenta Dell'autorimessa Eddio No questa non si apre Fanculo Niente Non abbiamo trovato Né chiavi Trullala 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 Ah snow Trullala 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 Magnao eh Trullala 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 Che non sapi Non capisci Se è una cosa pugliese Cioè Trullala Lo dicono in Puglia Trullala Oddio Sarà l'aria Si casa Cosa ha detto? Sarà Sarà l'aria di casa Sarà l'aria di casa Ah è vero che sei andata giù È vero Sei da È dalla mamma Credo Mi dici È nata giù Io penso in cantina Sì è certo È scesa Un attimo Ecco 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 là C'è un passaggio Vai Vabbè Eh sì Ma quello è il passaggio facile Il passaggio di Paolo Oh Niente Non si può Ci manca solo che poi non posso più salire Finisce lì Allora attenzione Questa è una Una corda per gli orlogi A corda È certo Che cazzo hai Vediamo un po' Che cazzo hai? Che cazzo hai? Aiutami Che cazzo ho detto? No praticamente scrive Snow Come state Sì certo è arrivato il traduttore universale Cosa ha detto Ma che cazzo scrive Ma sei tu Che fan cuore La metteranno Prima o poi la chat Che si dice anche i nomi Una porca Vediamo cosa fa sto coso qua Allora la chiave Dell'orologio Quando colpito Il tempo si rallenta Temporaneamente Fighissimo Allora aspetta Ale Mi sento 10 secondi Vai vai Sei un fan del cuore Un fan del cuore Vaffan cuore sì Esatto Vaffan cuore dico sempre Credo che sia riferito Ma è bellissimo Ma l'avete mai vista la serie tv Vaffan cuore Cioè esatto Quella Dove lei Va in una specie di paradiso Su Netflix Non è upload E invece non è il paradiso Lei è bionda E si trova Con uno che Vabbè Allora spiegato così Si esatto Del padrone del tutto E del niente Le spine Ma no dai L'unico livello Che Non abbiamo una chiave Ma che palle Ma come si fa Dai Né una chiave Né niente Non cazzo Solo monete Ecco ora siamo fregati Ah ma c'era una porta qua Ma cavolo Ma cavolo Vaffan cuore Ma nooo Ma che sfiga Dimmi che c'è un passaggio segreto Qualcosa Un aiutino da casa Anche questa Cioè siamo senza chiavi Ok sto misurando la febbre in diretta Grande Sai che forse Se riesco A infilarla Ma no dentro Sì Fanculo L'ho presa Vabbè Mi son preso un po' di monete Così Cazzo Sai che non abbiamo una chiave Proprio per nulla Quindi Sic la pazza Penza Cazzo E' scritto Sette Questa E' uno sciogli E' uno sciogli d'uma E' uno sciogli d'uma Io ho le braccia Sì Impegnate Aua Esatto Aua Aua Mi sembra sempre Balbontini Quando fa Aua Aua Che io parlo Savonese Quando fa Aua Aua Adesso sono io Adesso E' uno Adesso Mioini 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 Raga Io quando scendo giù qua Succede qua Ecco Bravo Ale Una pianta che schizza Una pianta che schizza Proprio sul mio passaggio Una pianta che schizza È una cosa da cui stare attenti No 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 Merda Cosa ho sentito Fazzina Con la crime di gioia Fazzina Con la crime di gioia Fazzina Una pianta che schizza Una pianta che schizza Cioè esiste In questo gioco Cioè Abbiamo una patata Proprio per rimanere in tema La patata ci dà Sappiamo tutti Ma in questo gioco Ci dà mezzo cuore Cioè ci fa mezzo felice Una patata Capito Cioè c'è tutta una simbologia Occulta Non posso ridere Come non puoi ridere Ma che cazzo sono le lacrime Le latrine Una latrina di gioia Sapete che queste pietre Che ha una latrina di gioia Facina con una latrina di gioia Sei sicuro che sia un gioco Eh sì Il gioco della vita Allora se passo qua Cadono le pietre E poi ritornano su Quindi Bene Bellissimo rumore Oh attenzione Siamo arrivati Siamo arrivati qua Dove? No Non sembra Niente Abbiamo due porte E basta Dove andiamo? A destra a sinistra? Facine con la cremine A sinistra Aia 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 Merda Merda Questo devo No 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 Che è? Non li ho mai visti questi Non li posso colpire Cosa devo fare? Entra dentro il scudo Vai Rompilo Bravo Duma Stavo guardando intorno E mi era accorto Che questo era lo scudo Protettivo Il lume Che Dava forza Oh Sei forte Le piante che schizzano Rosso Questo è diverso Lasciamo perdere Allora qua Mancata È di sinistra Che cazzo La crime Impara bene Impara a parlare La crime Cazzo La crime Ok Non abbiamo trovato Il negozio Non abbiamo comprato Un cazzo Oh era dietro di te C'è un portone Eh lo so È la porta del boss No è la porta che porta Da Paolo Da Paolo Al cuore di Paolo Non si apre bene Sai che potrei anche tirare Dietro al mostro Questo E qua Bello Guarda che forte Tiro il coltello lontano Poi lo faccio saltare Un po' Un po' Un po' Eh la linea Ha superato i 37 Ozzo Ho detto ozzo eh Non volevo dire ozzo Ma vabbè 37 e 1 Bene Umani sarà 38 Ok ora sono pronto Per PUBG Bene Ci siamo quasi Lascio la patata Che è solamente mezza E prendo la mela Che ti dà un cuore intero E la patata Ce la portiamo con noi Dentro la casa di Paolo È ovvio La casa di Paolo Offri Offriamo A Paolo Oramai diventerà la casa di Paolo La patata è qua Non c'era un'altra Sai che queste sono delle punte Che fanno Su 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 Che io ho detto Che cazzo sono sti fiori Ci sono andato sopra E Sono quasi morto Ah ma Monete Che non useremo mai In questo livello No Dù Ma cioè Non è giusto Io voglio Voglio arrivare al secondo livello Ma adesso è più difficile Niente Non c'è niente qua Ok Basta Boss Cazzo Bobudoyo Ok Noi con la nostra patata E il potere Della mela Devo far cadere Devo far cadere il lampadario Addosso Quando sono colpito Il tempo rallenta Leggermente Questo è buono Eccomi Ok Noi abbiamo il potere Solo uno In questo cazzo di livello Che quando veniamo colpiti Il tempo rallenta Leggermente Quindi Poi abbiamo la patata Abbiamo tre cuori Quindi possiamo anche farci colpire Ragazzi Il boss È Paolo Wow Wow M'ha preso Il tempo rallenta Ce l'ho fatta Fanculo È morto Paolo È morto Paolo Faffanculo Paolo Ma chi è Paolo Portiamoci dietro la patata Vai E si va a livello 2 La patata Lasciamo qua Anzi Sai cosa ti dico La patata Lanciamola giù Non si sa mai Lancia patata Allora Ci abbiamo di nuovo Da scegliere Tra Quando la salute è bassa I danni delle armi Sono significativamente incrementati Però dovremmo avere poca salute Quindi speriamo poche volte Invece dice Il cimeglio Lì Chime Silver Dice Quando Weapon strikes Have a chance To summon I colpi della spada Hanno una possibilità Di evocare Un wisp Che ci aiuta Un whisky Un whisky Sì Dai prendiamo Quello lì Che non l'ho mai preso Dai vediamo Questo qua Quando Colpiamo Abbiamo una possibilità Di invocare Un wisp Andiamo a vedere Ok Ok Una patata Non è una Ah no Ok Dai Via Mi metto La mascherina Che potrebbe essere Covid Covid Sì Così non Non Attacco Grazie Mi raccomando Parla Parla proprio tipo Fantozzi Con l'accento svedese Eccoli qua Scudi No Non puoi Adesso aspetto Che lo stronzo passi No Guarda che Che salto lungo Che ha fatto Ah Fa il doppio slide Fa Fa la sgommata Ma mi ha levato Dei punti Come ti ha levato Dei punti Entrando nello scudo Ma come mai Sono così difficili Adesso i livelli Vado con la destra Vai Ma gli mangi Le taccole Sei impassato Vai Bravissimo Vaffancuore Olio cuore Olio cuore Vaffancuore Attenzione Vaffancuore Vaffancuore Va giù Mezzo cuore Mezzo cuore Mangia mela Mangia patata Mamma mia Duma Mamma mia Duma Eccola qua Ma guarda Tutti i funghi Per terra C'è funghi Sul cappello Vai Ce ne stanno più Aio No Aspetta 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 C'era un Madonna Che stanza grossa Che stanza grossa Che c'hai Adesso non puoi ridere a tutto Se dicevo Che spazio grande Che hai Allora Che spazio grande Che c'hai Dai questo lo prendiamo Ci da Incrementa leggermente Il danno Infatti noi abbiamo La spada Fa sei E il coltello Vabbè ma il coltello Da lancio Da sei Diventa La spada fa male Vedi Adesso è diventato sette Mi ha capito La spada fa male Non fa Non fa sei Bravo Duma Mi piace quando Sottolinei I miei errori Di grammatichese 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 Ho visto Invece Così finiamo Velocemente Questa partita Quante monete abbiamo Quarantanove Bujovji Giugiu Sì vuol dire Quarantanove Ascolta Te lo ho detto È troppo difficile Per me Nella tua lingua Il Il Dumanico Il Dumanico Che si legge Solo la domenica Ah sì esatto Oh 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 Dietro la scrivania No Dietro al dove Dove hai rotto la scrivania Sul muro a sinistra Sinistra Esatto Esatto Lì No Destra Eh lì Ah no Sì È un È un Cosa Un panno Sì È un panno Sporco Un panno sporco Adesso prima di entrare là Voglio trovare Oh Allora È la spada Che ci ha difeso Non so Perché lì c'era Una di quelle Bubboni rossi Che esplodono Ok Voglio ridere Stai a vedere Madonna Ho paura Di questo Quello Duman Lo sai cosa vuol dire Che Cosa Il baule È scuro Vuol dire Che dentro C'è un Predatore Secondo me Sì Perché è successo Una volta Eccolo Ah ok È il 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 Almeno La chiave L'abbiamo presa Dai Adesso bisogna Decidere Quale Quale Aprire Qui abbiamo Una Porta Era un po' Che non si sentivano Gli studi Approfonditi Lo sapevi Che gli africani Sembrano tutti Uguali Perché secondo Recenti studi L'apparenza Ingana L'apparenza Ingana Sì Sono caduto Malevato Sì ma siamo ritornati qua Eh sì perché Non li perdi tutti i cuori No Ne perdi uno Quindi siamo Siamo caduti qua Forse mezzo Ne abbiamo perso No no Tutto No ne avevamo due Si Ma porca trota Eh sì Ne avevi mezzo Quando te l'ho detto io Poi ho mangiato la mela Bravi 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 No Altro mezzo cuore Ma quanto ci mettono a morire Sti qua Ah Questo ce l'ho fatta Ah Merda Non si può chiudere la porta Vai Vai nel buco Vai nel buco No Io sono andato nel buco Basta passiamo su pub Merda Io da quando ho iniziato a giocare a pub Cioè che non sono in gran forma Quindi Perfetto Figurati Quindi ho preso solamente 4 cazzo di punti Ma in poche parole Gnau Ma non ho preso neanche nessuna pagina di giornale Eh niente Comunque così Eh giochiamo un po' distratti Però è diventato più difficile il livello 2 Che cazzo succede Andiamoci a riscattare qualcosa Sì Scusa Gnau Gnau Ne abbiamo 26 Che cazzo ci facciamo con 26 Niente Questo qua era 3 Sì 40 Questo qua era 30 Ma poco ci sono Ma era snow? Un secondo Uno Niente peccato Non c'è Ciao Ciao Alla ci sentiamo su Ma che ci sentiamo? Siamo in party Sì rimane in party Rimane in party Però non posso cambiare gioco Sì non mi va sulla schermata della home Quindi appena stacchi stacco Eh ok quindi Con calma Con calma Ciao a tutti Cazzo è Cosa vuol dire quando stacchi stacco Poi non va nella schermata Non ci capite un cazzo No Quando inserisco un nuovo gioco Un nuovo disco Automaticamente mi va sulla home Ah Che figata che è il disco Perfetto Ok va bene Allora qua chiudo Ciao a tutti Ci vediamo su PUBG Ciao a tutti 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 Ciao Paolo Ciao Paolo Ciao Paolo Ci sono qui Paolo Fa niente Ciao Paolo 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 Grazie.